Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video da Tommy06, si ritorna su Clash Royale dopo anni e anni, eccoci, apriamoci subito un baule d'argento Allora ragazzi, entrate tutti su Clann, i guerrieri, perché i guerrieri sono più attivi, i guerrieri sono i più forti Sono i più forti, cazzo Allora ragazzi, come abbiamo visto qua, c'è un torneo di oltre i problemi, seppure non lo faremo, cioè forse sì Allora, però questo è il mio deck, è il mio deck, ok, bellissimo, bellissimo, sì, sì Il mio deck copiato, lui ha il mio deck copiato Dai, facciamo subito una battaglia, perché bisogna far vedere subito chi è il king di questo gioco Andiamo a aspettare il nostro pickings Allora, inizio così perché c'ho voglia che lui butta qualcosa, se non la mazzo Ma certo, dopo aspettiamo pure il compagno di reparto Ma questo è matto, ma questo è matto, ma guarda tu Dio, madonna E che cazzo faccio? C'è un cazzo, Dio, madonna Ragazzi, questa è una partita di prova E dopo ti metti due scintille Sì Poi perdi davvero che si chiama Lollo di bala Lollo di bala Più a bene Più a bene Più a bene, più a bene Allora ragazzi, ora andremo a mettere Io metterei Scusa, dice delisir Che faccio? Ma buttagli qualcosa, se non ti frega Dai, allora facciamo come fa prima, va Almeno adesso c'ho barbari, prima mi girò a male il deck E ne attacchi d'altra parte, metti qualcosa d'altra parte Eh, c'ho un cazzo Indomatore, qualcosa? No, c'ho un cazzo Cazzi, tu guardi Allora, appena sprecare l'isir, buttiamo sto coso sotto qui Eh, l'isir? Vabbè, questo penso che mi buttava il principe Invece è stato un ragazzo molto in gamba Visto che noi bisogna far tirare Ma perché perdi l'isir, caro? L'uno ha perso 10, l'isir ha perso Che matto? Un mattoide, un mattoide Oh, che fai, matto? Dai, dai, un altro colpo Perfetto, ragazzi A ciccio ciccino 06 Va benissimo così Si, mi chiappa il coso, la mazzo Si, c'è, però vita ma... Ok Dai, non la torta, non la torta Non ce l'ho Dai, buttiamo cosa a cazzo E ora butta tutto a cazzo Dai, dai, dai Così si fa Dai, 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 che è nostra Guarda Come è vecchio te Come è vecchio te Dai È già una torre Come è vecchio te Qui sta è matto Sinistra Barbaro Hittate, hittate Hittate Hitt importanti Allora ragazzi Ora si va potenti Potenti No, il pezzo di merda Eh Eh, qua Stregone in mezzo Tipo Eh, ormai Dai, dai Guarda, guarda 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 Minchia Bombarolo Vai, ottimi Hittate 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 No, sbagliato Oh, difendi Oh, difendi Oh Ce penso io Ce penso io Zap, zap, zap Zap Non ce l'ho Zap Ottimo, ottimo Ragazzi Questa è la partita Si porta a casa Easy Easy Chi è? Che ho detto all'inizio? Facciamo vedere Chi è il king Ecco il chiappa Bravo, amore mio Ragazzi Sexi La lezione Da ciccio ciccino Ditemi quando volete una lezione Ma ora giocherò io Il suo Andiamo a vedere World of Cement Andiamo a vedere Milingo Oddio Mattia Questo sarà russo Zitti Zitti Ah, lui fa Hittor Neo Ragazzi Una cosa molto interessante Dopo faremo anche noi Ragazzi Io Gli butterei un po' Di Bisogna Un po' Diciamo Come cazzo si dice Uno sticker Bisogna mandare Perché bisogna Dargli Eh, vabbè Oddio Eh, vabbè Saxi Pimpininin Dove ho il buon parole Ma ma Sì Ir E vabbè Quastoro Ragazzi Questo lo ferma Sì Sì E invece guarda Lui ragazzi Lui è anche lui Ragazzi Ottimo Molto bravo Ragazzi Questo ragazzo È molto Molto bravo È un top 50 al mondo Andatelo a seguire Sul suo canale messi nico messi nico come difende bene il nostro ragazzo guarda voi io mi sa che faccio col 2.8 dopo ma si ma si oh ma oh sbucava la langa sbucava la langa sbucava la langa bisogna sfruttare sfruttare bisogna eh pepe attenzione boscaiolo boscaiolito che petto ragazzi questa ragazza è un ragazzo molto in gamba ragazzi guarda come gioca ragazzi mamma mia ragazzi guarda che tecnica che ha fatto me lo fa fare chi me lo fa fare una partita molto avvincente tra i due protagonisti tu sei il vero protagonista ma è andato a torre quel pezzo la merda attenzione ragazzi perché qua si fa dura per milingo molto dura ma c'è il domatore che corre ma lui molto bravo il ragazzo no ragazzi no ragazzi ma io non mi arrendisco bravo continua così bravo a lei lui io ne metto un'altra non mi interessa mamma mia ma perdi a dire no quasi tutte così al 9 no perdi perdi no quale era le cose al 9 ragazzi questa sconfitta pesa ma nel ranking della fifa sono matto sono matto ma vai pipì ti rispetto ti rispetto allora ora andiamo anche noi a fare una parere cambiamo d'ecco perché se no sempre lo stesso ragazzi ma che gusto d'amore ma impariamo una ccciocomera 89 assolutamente assolutamente vedi ragazzi ecco qua ragazzi ma qua è questo bello andiamo vai e si parte forza ragazzi più carichi di primo più carichi di quando se c'ha il coraggio se c'ha il coraggio si difende se c'ha il coraggio si difende ah vedi c'ha paura c'ha la ula c'ha eh la ula butta pippi butta spiega troppo le seer troppo le seer infatti sto deck per tre le seer comunque eh si c'ha il razzo un culo no ti prego di me che capo pure quello ok ehi la mano mamma mia che predict mamma musta va bene va benissimo va benissimo dai non tocca perdere elise quindi facciamo un po' di così poi faccio un po' di così poi faccio un po' di così poi faccio un po' di così vai vai fra vai vieni di qua vieni di qua vieni di qua brava no ho sbagliato ho sbagliato vada ah godo c'è giro lo stesso ah lo fa il giro del mondo oh no ti prego no no sexy in pimpin oh tu qui mi ha rotti coglioni oh no no sto sprecando troppo tu qui mi sta a girare il pisello ho sprecato 16.7 15.3 vieni qua boss dai dai va bene intanto manco me l'hanno sfiorato vai bravo così ti voglio vai vai minchia no ho sbagliato l'ho messo che testa no qua qua è sbagliato qua ci va pesante qua ci va pesante il fratma gian santi gian santi gian santi perfetto perfetto forza di gian santi guarda guarda come si gioca pensa di battita il king perché si vai vai si è reso butta butta vai vai faccia arrendere la gente vai guarda vai vai infatti si lo metto io ragazzi va bene diciamo ai tre moschettieri io l'ho fatti i tre moschettieri gang ora metterò il deck 3.4 inventato da me in persona in persona in persona otteniamo otteniamo ragazzi degli scambi molto molto utili ragazzi quindi bisogna stare con la pia aspettare not pippings pippings non mi aspettare è certo vilingo mi piace mi piace l'oro andiamo a incitare il nostro compagno di reparto con questi sticker molto unici al mondo solo io parte signori con la furia questo però è aggressivo troppo aggressivo va a torre mono va a colpirlo lo va a colpire mamma mia ragazzi qua ci vuoi un광ine mamma mia lo spirulino lo spirulino ragazzi parte la furia non ci interessa un cazzo non ci interessa per un cazzo non ci interessa per un cazzo mette la scarica non ci interessa per un cazzo signori e va nuovamente a torre ah ragazzi ci difendiamo così ci difendiamo così ci difendiamo così ragazzi ci difendiamo così Molti ragazzi Bravi ragazzi Questo ragazzi fa un po' il boss Fa un po' il bulo Eh ma non sai che qua comandano i king veri Questo gioco No, devo mettere quello Ma va bene così Perché noi siamo noi E voi siete voi E noi siamo i king E voi siete Merdi Ma io gli dico questo Io lo faccio partire Io gli dico questo Senza paura Senza paura Ma chi lo ferma più questo ragazzi Senza paura Ma non ci frega un caso Non ci frega un caso Ti attacco col domatore Mamma mia Non ci frega un caso Il domatore fa danni Ma anche io gli faccio i danni E ne rimetto subito un altro Bravo queste sono le tecniche dei ciccio game Giusto per combattere Quanto è davvero? Lasciamo andare Lasciamo andare Non ci interessa per un cazzo signori 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 Ripeterò signori Ripeto Signori Ragazzi 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 Nel billo Ragazzi Qua E' duro Qui tecniche importanti signori Tecniche importanti Ragazzi Imparate da noi Se non le imparate da noi In questo gioco Non andate duelle Tecniche importanti Tecniche importanti Tecniche importanti Tecniche importanti signori Tecniche importanti Mettola fuori La fuori a cazzo signori Per essere aggressivi Per essere aggressivi Per essere aggressivi Giusto così Giusto così Solo applausi Giusto così Giusto così Giusto così Vai Pimpins Faccene una tu Faccene una tu Allora Facciamo sempre quel deck dai Dai Faccela tu Pimpins Sempre quel deck perchè Nel prossimo video Scrivetemi nei commenti Se volete altri deck E consigliatemi altri deck Andiamo ad aspettare Il nostro compagno di reparto Eh qua c'è troppo tifo ragazzi Oh eh che faccio Non c'ho un cazzo Cifcianono Bravissimo Così aggressivi Cazzo Aggressivi Dai non spiegarsi Non spiegarsi Non spiegarsi Inizialmente Inizialmente Non c'ho un cazzo Questo fa il matto Questo... No ho sbagliato Cifcianono No no fa bene Si infatti Penso di aver fatto male Ma perchè siamo i king Non sbagliamo mai Bravissimo Non sbagliamo mai Bravissimo Solo lo script Solo lo script Si può fermare Solo lui In persona No cifcianono Oh tu qui Mamma mia Il king Non sbaglia una mossa Non sbaglia una mossa E' insomma E' insomma E' insomma Tronco bravo Ma 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 come do E' raga qua Aiuto 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 Questa è dura Come la verdura Eh già Oh Va bene Hit hit importanti Attento anche a sinistra C'è lo stregone Oh a destra Brava il king Il king Il king Il king Torre free Torre free Torre free Vabbè Ma non ci vuoi fare Cazzo di là Vabbè capita Tanto quella Prima o poi Giva giù Questa la vedo un po' dura Torre 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 attento, attento a tutto attento a tutto mi rischia per rischiare rischia per rischiare rischia per rischiare dai vai attacca attacca si si ad attacco dai non ce l'hai non so che buttà quindi si butta tutto a cazzo ma che cazzo ha fatto tutta a cazzo ma non volevo fare così per ridere per ridere per ridere per ridere c'è sta eh ma adesso che cazzo gli hai no ma io guarda quando sono down te prego eh vabbè eh ragazzi qua è presa male ma ecco attacca attacca eh ho la strega del bardo eh appunto la strega è una carta eh ho perso eh vabbè e il nostro pipi eh ragazzi eh no mi è andata una zanzarata la mosca mi è andata una zanzarata la mosca ma noi lo perdoniamo ora ne vado a fare un'altra mi è andata una mosca e quindi ho perso con il deck aggressivo di prima siamo a 17 minuti di video siamo a 17 minuti di video per cui facciamo un altro video e cioè facciamo un'altra partita forse questa è l'ultima partita che dici tu? si 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 perde si perde oh lui attenzione ragazzi mi metto una furia tattica questo pensa di vincere così che tonto che tonto pensa di vincere così bisogna difendere un po' perchè questo è un salame d'errore pensa di vincere qui in mare manca un danno ragazzi ma io attacco cattivamente 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 mamma mia che giocatore fantastico questo ragazzo cattivamente signore faccio partire da qui oh mamma mia mamma mia sorella mamma mia sorella che difesa che difesa che difesa che difesa lo lasciamo stare come un golfiere fai il culo metti la furia che gli fa il culo facciamo stare bravo gli ha fatto il culo mamma mia come la messa esplodi come non lo so come il mio buco del culo dopo il sushi mamma mia sorella signori signor di Luigi molto aggressivo questo non va bene per i deboli non va bene per i deboli mai provare queste dec a casa non va bene per i deboli ragazzi non va bene per i deboli vi avverto vi avverto non va bene per i deboli non va bene per i deboli Signori Signori Come va il nostro Il nostro milingo La parte 2 La parte 2 Scrivetelo sulle commenti E scriveteci Se dobbiamo fare qualcosa In particolare In particolare Qualche sfida Non lo so Guarda come fa sclerare l'avversario Questo È il milingo che vogliamo Falli sclerare tu Chief Chambers Ragazzi Mamma mia Come si difende Io penso che Un ragazzo difendoso così Non si è mai visto Ma va Fa un culo L'attacco Bravo bravo Tanto ormai L'aveva vinto Ormai Dai bravo bravo Così bravo Hai vinto bravo Niente difesa Ragazzi Questo Deco Non va bene Deco Applauso Attenzione Che dici Siamo arrivati a Siamo arrivati a 20 minuti Che dici Io direi di fare Una parte 2 Signori Parte 2 Parte 2 Arrivederci ragazzi Da questa splendida vittoria Chiudiamo questo video Così Sexy Chiediamo questo video Lo chiediamo Si Allora Bella a tutti ragazzi Si è questo Allora ragazzi Noi vi salutiamo Iscriveteci Lasciate un like Un pollicione in su E non in giù Commentate Iscrivetevi Mettete la campanella E abbonatevi Se volete E supportatemi Se volete E messaggi Si E E niente E niente Scriveteci nei commenti Cosa volete Vedere Nel prossimo Video Bene ragazzi Così Così Così